Leonardo Silva Revisore Buonasera, io parlerò di maternità. La maternità ha ispirato vari tipi di arte, ha ispirato ad esempio la pittura. Guardate questo quadro di Klimt, quanta dolcezza, quanta serenità c'è nell'immagine. Della madre col bambino. Oppure la dolcezza in questo quadro di Picasso si evince non solo dallo sguardo, dal viso della donna ritratta, ma si evince anche dai colori, dai colori di questo splendido quadro di Picasso. Oppure in questo quadro sembra che ci voglia dire che intorno a questa madre, a questo bambino, può accadere di tutto. ciò che conta è lì, in quel momento. La maternità però ha ispirato anche altri tipi di arte. La madre è la protagonista di tante poesie. Ungaretti immagina che anche nel momento della morte ci sarà sua madre a darle, come al solito, una mano, perché la madre è il punto di riferimento di tutti noi. Oppure questa poesia di Edmondo De Amicis l'ho scelta perché è legata a un ricordo personale. Chi di voi ha dovuto recitare la poesia da bambino durante la festa della mamma? Alzi la mano. Io ho dovuto recitarla. Almeno quelli che hanno più o meno la mia età avevano in genere, in occasione della festa della mamma, il compito di recitare la poesia. Ognuno di noi, ogni bambino, era stata assegnata una poesia. A me fu assegnata questa poesia di Edmondo De Amicis. Io però non volevo recitarla. Non volevo recitarla perché mia madre all'epoca aveva 40 anni, non ne aveva 60 e quindi, ecco, mi sembrava offensivo dire mia madre a 60 anni davanti ai miei compagni. E fu bocciata la richiesta che io feci di cambiare la poesia. Ecco, Umberto Saba ci ricorda che i nostri figli, per quanto amorosi, come dice lui, ci faranno soffrire. Le nostre raccomandazioni, i nostri moniti, spesso saranno vani, spesso non ci ascolteranno, ma fa parte del rapporto tra madre e figlio. Pasolini dice che l'unica che conosce al mondo, che conosce il suo cuore, è sua madre. E io ho voluto riportare anche questa foto di Pasolini con sua madre. Qui Pasolini non è più un bambino, è un uomo adulto. Però guardate lo sguardo, il gesto di sua madre. Sono lo stesso sguardo e lo stesso gesto che una madre può avere nei confronti di un bambino molto piccolo. E quindi, secondo me, questa è un po' l'immagine, l'emblema che l'amore della madre nei confronti del figlio non finisce mai. Però la maternità è in grado di ispirare anche delle discipline che non vengono considerate prettamente delle discipline artistiche. E io vi dimostrerò che la maternità è in grado di ispirare anche una disciplina come la medicina, che è considerata una scienza. Ma in parte la medicina è anche un'arte, perché alcune idee, alcune ispirazioni, sono poi quelle che determinano lo sviluppo di alcuni tipi di ricerca. Certo, per ispirare la medicina ci vuole una maternità molto forte. Quale può essere una maternità doppia? Questi sono i gemelli di Klimt. Anche qua vedete la bellezza, diciamo, il sentimento appagante, la serenità che esprime questo quadro. Questi sono i gemelli di Klimt e questi sono i miei. Ecco, questa è stata la data in cui si è verificato l'incrocio tra la mia vita personale e la mia vita professionale. Sono nati Carlo Andrè e Margherita, sono qua nel pubblico. La nascita di un figlio cambia la vita di una persona. esiste una vita prima della maternità, esiste una vita dopo la maternità. Non che una sia migliore dell'altra, però la vita dopo la maternità vuol dire che cambiamo il nostro modo di vedere, il nostro modo di pensare. Il nostro punto di riferimento, il centro del mondo, non siamo più noi. Il centro del mondo sono i nostri figli. Perché si è verificato l'incrocio tra vita personale e vita professionale? Io sono un'oncologa, mi occupo in particolare di tumore della mammella e ogni anno in Italia 50.000 donne si ammalano di tumore della mammella e 2.700 di queste donne sono delle donne molto giovani, delle donne al di sotto dei 40 anni. Queste donne sono delle donne molto forti che tutti i giorni ci insegnano qualcosa quando le incrociamo nella nostra vita professionale. vedete, ci insegnano che la vita non significa aspettare che i temporali passino, ma significa imparare a danzare sotto la pioggia. La tempesta rappresentata dalla diagnosi di tumore, dalla necessità di fare chemioterapia, con tutti gli effetti collaterali che la chemioterapia comporta. Primo, tra tutti, la perdita dei capelli. Ovviamente, in un'epoca basata sul web, come la nostra, danzare vuol dire creare un blog. E questo è il blog che ha creato questa mia paziente nel momento in cui ha dovuto fare la chemioterapia. Vedete, ha chiamato il blog Chemiodura senza paura. e non ha avuto, diciamo, esitazioni a pubblicare sul blog le sue foto, le sue foto senza capelli o addirittura la sua foto quando finalmente ha trovato la parrucca giusta. Vedete, a destra è mentre ha scelto la parrucca e questo momento che, in realtà, giustamente viene vissuto come un momento molto tragico, devo indossare la parrucca, per questa donna, invece, è stata l'occasione per fare un selfie, come facciamo noi in tante occasioni della nostra vita. Queste donne sono forti, ci insegnano tante cose, però c'è un effetto collaterale che queste donne non accettano, un effetto collaterale che la chemioterapia può indurre e che è rappresentato dalla perdita della fertilità. Perché, purtroppo, la chemioterapia può avere questo effetto, può far sì che queste donne non possano poi diventare madri una volta che hanno terminato il loro percorso terapeutico. E quindi io, forte della mia esperienza di madre, mi sono detta che bisogna fare qualcosa, bisogna trovare una strategia, perché queste donne non debbano pagare anche il prezzo rappresentato dalla perdita della fertilità come conseguenza della chemioterapia. E lì è nata l'idea, lì è nata l'ispirazione, che è venuta dalla considerazione che la chemioterapia è maggiormente tossica sugli organi che si riproducono velocemente. Ed è disponibile un farmaco che è in grado di mettere a riposo le ovaie, cioè di fare in modo che le ovaie entrino in uno stato di quiescenza. Questo farmaco veniva utilizzato soprattutto per evitare che le ovaie continuassero a produrre estrogeni che possono determinare, favorire la crescita del tumore. E allora l'idea che mi è venuta è stata ma se io utilizzo questo farmaco per mettere a riposo le ovaie è possibile che la chemioterapia abbia meno effetti collaterali perché le ovaie sono in stato di riposo. Questa è stata l'idea per realizzarla. è stato necessario disegnare uno studio clinico. Portare avanti uno studio clinico non è facile. Bisogna avere delle persone che collaborino alla realizzazione di questo studio. E io ho trovato tanti colleghi sul territorio italiano, tanti oncologi, che mi hanno aiutato a portare avanti questo studio. Fare uno studio clinico significa avere delle risorse economiche perché bisogna pagare l'assicurazione, perché bisogna pagare tutta una serie di infrastrutture, perché bisognava comprare il farmaco che all'epoca non era disponibile con questa indicazione. Quindi bisognava comprarlo. Quindi era necessario avere risorse economiche. Le risorse economiche ci sono state date dall'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro che approfitto di questa occasione per ringraziare pubblicamente perché è una delle maggiori sostenitrici della ricerca italiana. Insomma, lo studio è stato realizzato. L'idea era buona e abbiamo dimostrato che effettivamente attraverso la somministrazione di questo farmaco è possibile ridurre l'induzione di menopausa precoce e quindi la perdita della fertilità di queste giovani donne. Lo studio è stato pubblicato sulle riviste più importanti al mondo di medicina, che era presentato dal JAMA, e i colleghi americani della Società Americana di Oncologia che tutti gli anni fanno un resoconto per riportare quelli che sono stati i maggiori progressi in oncologia ottenuti nell'ultimo anno. E vedete che l'anno scorso hanno riportato il nostro lavoro come uno dei maggiori avanzamenti in oncologia del 2015 e il paragrafo che era dedicato al nostro lavoro, vedete, si intitolava Buone Nuove per le donne che sperano di avere un bambino dopo il trattamento per tumore della mammella. Quindi c'è stato questo riconoscimento molto importante a livello internazionale, però la cosa più importante è stata questa. Pochi mesi fa le nostre autorità regolatorie italiane hanno approvato il farmaco con questa indicazione. Quindi oggi tutte le donne italiane possono avere accesso gratuitamente a questo farmaco per poter preservare la loro funzione ovarica. Quindi diciamo che se oggi in Italia, ma anche in tutto il mondo, perché ormai tutte le linee guida oncologiche mondiali riportano questa strategia come una strategia da offrire alle donne giovani che vogliono preservare la funzione ovarica, dicevo, se tutto questo è possibile, bisogna ringraziare i ricercatori italiani che hanno portato avanti questa ricerca e l'AERC che economicamente ne ha permesso la realizzazione. Applausi E' chiaro che quando questo giornalista mi ha intervistato per così approfondire un po' questo tema e così con fantasia mi ha definito Cicogna, io sono stata molto contenta, mi sono ritrovata molto in questa definizione. Ora mia sorella non mi chiama più col suo nome, mi chiama Cicogna, ma va bene. E mi piace, diciamo, immaginare di aver collaborato a portare effettivamente dei bambini alle giovani pazienti che, diciamo, hanno affrontato la chemioterapia, ma che alla fine della chemioterapia hanno voluto fortemente una gravidanza. L'ultimo è nato meno di un mese fa, il 20 settembre, è nato questo bambino da una mia giovane paziente e devo dire che quando arriva la telefonata, proprio il giorno in cui sono nati questi bambini, per farmi sapere come si chiamano, quanto pesano e tutti questi dettagli, devo dire che forse questa è la più grande soddisfazione, il più grande riconoscimento al lavoro che abbiamo portato avanti. Il messaggio con cui io mi volevo lasciare e che volevo trasmettere è che è importante che la nostra vita personale e ciò che di meglio ci accade nella nostra vita si incroci in qualche modo con la nostra vita professionale, quindi incrocio tra vita personale e vita professionale, perché è vero che è importante la regola d'oro che è caratteristica della maggior parte, proprio di tante religioni, di tante filosofie, non fare ad altri ciò che non vorresti venisse fatto a te, però a mio avviso non basta, bisogna fare qualcosa di più e quindi secondo me incrociando la nostra vita personale, ciò che di meglio abbiamo avuto con la nostra vita professionale, forse possiamo rivisitare la regola d'oro e cercare di far sì che gli altri possano avere ciò che di più bello abbiamo avuto noi. Grazie. 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 Grazie.